La questione CONSAC che nell'ultimo mese ha riscaldato un po' gli animi dei cittadini, com'è la situazione attuale? La situazione attuale, noi abbiamo fatto il Consiglio Comunale l'8 gennaio, abbiamo fatto richiesta, siccome io come ho detto non ho nessuna difficoltà al soggetto gestore, ma interessa che il servizio funzioni, venga garantita la depurazione, l'erogazione, i servizi, gli investimenti sui nostri impianti, perché Castellabate non può avere falle nel servizio della raccolta, nel servizio della depurazione, nel servizio della erogazione, quindi il primo interesse è questo. Poi se questo servizio riesce a erogarlo, riesce a gestirlo un soggetto A piuttosto che un soggetto B, a me questo interessa poco, mi interessa che questo servizio venga fatto e se c'è un soggetto che ce lo può fare con tariffe migliori, io sono il primo e il più contento a perseguire questa strada, tant'è che noi abbiamo fatto questa delibera di consiglio con la quale abbiamo fatto richiesta all'ente idrico campano di voler valutare la possibilità di assegnare Castellabate al bacino gestito da Asis, anche se devo dire che questo è un problema di sistema, perché voglio dire anche, insomma pure ad Agropoli ho visto che qualcosa succede, quindi delle discordanze, delle discrepanze su questi sistemi c'è per quanto riguarda il trasferimento dei dati e quindi per quanto riguarda le bollette, però dicevo, non ho nessuna difficoltà, abbiamo fatto questa richiesta, alla quale è pervenuta ancora nessuna risposta, stiamo aspettando che l'entere idrico campano eventualmente ci convochi insieme ai soggetti interessati per stabilire la mia volontà e l'ho già manifestata, per cui nel momento in cui ci convocheranno non abbiamo nessuna difficoltà in tal senso. C'è stata anche la raccolta firme che è stata protocollata, è stata prodotta qui al Comune, io non ho nessuna difficoltà perché credo che quando si eserciti la democrazia sia sempre un fatto importante che vada rispettato, quindi voglio dire noi siamo in democrazia, quindi vanno rispettate le volontà e anche perché è una norma statutaria appunto dello statuto che è prevista dallo statuto del Comune. Ho trasmesso tutto agli uffici competenti, quindi agli uffici del Comune per farmi dare interpretazione e delucidazione in merito alla tenuta, allo svolgimento eventualmente per quanto riguarda il referendum. Mi sembra che l'articolo 63 prevede la possibilità della consultazione referendaria, ma è carente nella parte della regolamentazione, quindi c'è un aspetto che va approfondito, che va curato e sulla quale va predisposto un regolamento, però gli uffici, ripeto, stanno approfondendo, non appena avrò esito di questi approfondimenti ne darò immediatamente conto.